Fino ad oggi la semaglutide, un farmaco cosiddetto GLP1 agonista utilizzato per la terapia del diabete di tipo 2, era disponibile unicamente in una formulazione iniettiva. Da oggi invece per i pazienti italiani si apre la nuova possibilità di cura perché questo farmaco adesso è disponibile anche per via orale. Come agisce e soprattutto quali sono gli studi che hanno portato alla registrazione del farmaco? Ce lo siamo fatti spiegare da un vero esperto, dal professor Angelo Avogaro, che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un evento con la stampa scientifica. Professore Avogaro, innanzitutto ci aiuti a conoscere un po' meglio questo farmaco, che cos'è e come agisce, qual è il suo meccanismo d'azione e come si inserisce nell'eziopatogenesi del diabete. Semaglutide è un analogo del glucagon-like peptide 1 o GLP1 e agisce fondamentalmente stimolando la secrezione insulinica e inibendo la secrezione di glucagone, quindi stimola l'ormone che riduce la glicemia e inibisce l'ormone che aumenta la glicemia. Semaglutide può essere in formulazione sottocutanea e invece oggi noi parliamo della formulazione per via orale, che è efficace esattamente quale? La formulazione monosettimanale per via sottocutanea. È molto importante perché stimolando la secrezione insulinica riduce, come ha detto, la glicemia, ma ha anche degli effetti molto importanti inibendo la motilità gastrica e soprattutto inibendo il senso di fame a livello centrale. Quindi non solo si ha una riduzione senza ipoglicemie dei livelli circolanti di glucosio, ma si ha anche una cospicua riduzione del peso e una cospicua riduzione del grasso viscerale. Ovviamente per quanto riguarda la terapia del diabete tipo 2 è molto importante ed è importante perché il farmaco protegge il sistema cardiovascolare, oltre alla sua capacità di ridurre la glicemia. Ecco, ci dica qualche parola appunto sugli studi clinici, sulle evidenze cliniche che hanno portato poi alla registrazione e adesso anche la rimborsabilità del farmaco che era già disponibile come terapia cognitiva ma che oggi arriva come orale. Il farmaco è rimborsabile oggi attraverso Nota 100 e la sua rimborsibilità deriva dal fatto che ha parecchi studi clinici a suo favore, tutto il programma Pioneer è stato improntato per dimostrarne l'efficacia e per dimostrarne la sicurezza cardiovascolare. In effetti è un farmaco che ha la capacità non solo di ridurre la glicemia ma anche tutti quei fattori di rischio cardiovascolari che fondamentalmente danneggiano le arterie. Quindi questo è stato sostanziato nello studio Pioneer 6 in cui si è visto che c'è una riduzione significativa degli eventi cardiovascolari. Ecco, alla luce degli studi che ci ha raccontato, anche se in sintesi, e delle indicazioni approvate dall'AIFA quale sarà il suo posto in terapia, professore? Il suo posto in terapia, come dicono le ultime linee guida italiane, è sicuramente un farmaco di prima scelta nei pazienti che hanno avuto un evento cardiovascolare e in coloro che hanno un'aterosclerosi clinica e comunque subito dopo metformina in coloro che non hanno apparenti complicanze cardiovascolari. Oltretutto è un farmaco efficace contro il danno renale, quindi in coloro che sono microalbuminurici, che hanno aterosclerosi subclinica e soprattutto sindrome metabolico è il farmaco ideale. Il fatto che sia disponibile per via orale per i pazienti è un grosso passo in avanti? Sicuramente un passo in avanti, ma il passo in avanti è che è una proteina che per la prima volta può essere somministrata per via orale. Non era mai successo e grazie alla tecnologia sicuramente questo è un passo da giganti nella terapia proprio non solo del diabete ma anche in generale di tutte le patologie.